il mio canale allora oggi nuovo video un video tag che si chiama 10 domande per te possono bastare come la canzone l'ho visto sul canale di la swamp ciao tesoro un bacio grandissimo sono 10 domande ed è stato ideato da chiacchiere sul divano e niente cominciamo subito allora prima domanda cosa ti attrae di una persona appena la vedi allora io appena vedo una persona mi attrae molto il viso ovviamente come si sa l'aspetto fisico è quello che vedi prima è normale ovvio che comunque se non c'è quel pizzico d'aspetto fisico che ti può piacere da una persona credo che non hai ne manco l'interesse di conoscerla quindi ovviamente se guarda sempre aspetto fisico anche se io dico sempre che comunque conta quello che ognuno ha dentro però ovviamente se l'aspetto fisico all'inizio non te soddisfa diciamo non hai proprio quell'interesse di conoscerla insomma poi ci sono tanti che comunque anche se l'aspetto fisico non è un granché però comunque ci stai ben insieme o questa persona anche ti fa ridere simpatica e certo te ne mori anche così insomma però a me mi attrae molto il viso di una persona se devo conoscere una persona per dirvi adesso no vabbè ormai no sono fidanzata però per spiegarvi io guardo molto il viso per esempio c'è tanti ragazzi se vedete belli o palestrati insomma anche non palestrate comunque messi bene no? che sono tranquilli messi bene però se devi viso fai cagare cioè non mi piaci cioè poi avevi anche il fisico perfetto ma tanti ti devo baggiante il viso non ti devo baggiante il petto cioè quindi se non mi piace a priori cioè ti scarto subito io ho fatto guardo molto il viso e se non mi piace ciao dopo di fisico per essere perfettissimo ma non mi interessa e quindi a me mi attrae molto il viso seconda domanda cosa ti ha fatto innamorare di tuo marito? allora io non sono sposata sono fidanzata ormai da adesso oltre giugno facciamo 5 anni con Roberto come ormai lo conoscete tutti di lui mi ha fatto innamorare che è sincero è una persona vera non lo dico perché il mio ragazzo ma vi dico quello che ho passato io con lui quello che mi ha fatto innamorare di lui allora è una persona vera sincera è una persona schietta che se ti vedi una cosa te la faccia non te la dice è a rete quindi molto tosto testardo e poi è una persona anche che mi sa tenere testa e perché io sono veramente una cappella e lui mi sa tenere veramente testa e questo mi fa imbezzelire ma è una cosa che mi ha fatto innamorare di lui che comunque nessuno ci ha mai riuscito a tenermi testa e poi è che dolce è molto simpatico e tutte queste cose qua quindi è questo qui quello che mi ha fatto innamorare di lui e poi vedo che comunque lui su tante cose comunque pure mi viene incontro poi è molto buono come persona e quindi questo terza domanda se dovessi trasferirti all'estero in quale paese ti piacerebbe vivere e perché? allora a me mi piacerebbe vivere come già vi ho detto in passato che dicevo America e Dubai Dubai forse sarà un po' troppo quindi direi America il perché non lo so proprio nel senso perché comunque sono sempre stata affascinata dall'America e anche dall'Inghilterra non lo so perché ma sono affascinata moltissimo dagli americani soprattutto non so la loro cultura non so mi piacciono molto non so che dirvi mi piace proprio l'America bella come paese e tutto quanto quindi mi piace veramente tanto quindi non mi so dire proprio un è che mi piace appunto non è che c'è un qualcosa proprio di particolare insomma non lo so mi piace quindi America allora quarta domanda se sei in giro quale è il negozio che ti attrae maggiormente? i cinesi ragazzi veramente perché tanto che quale è il negozio che ti attrae? ovviamente io vado e do la roba a cosa di meno tanto vivino lavoro e tutto a parte sì che faccio le unghie a casa che adesso sto parecchio lavorando ho parecchi clienti ho venuto anche qualche cliente nuova quindi dopo ogni mese mi ritorna insomma quindi ok oppure ogni tre settimane dipende una quanta ricrescita c'ha vabbè delle unghie adesso sto andando fuori tema e niente i cinesi sono ancora in matrai non lo so devo dire i negozi di cinesi basta per adesso sì anche Kiko Kiko ma tra ogni volta che passo lo guardo dico fammi non entra perché altro non c'è una lira non posso prendere niente e comunque dai parte cinesi dai Kiko Kiko sì mi attrae molto un po' altre ah altro come negozio volendo anche Tigotà mi piace veramente tanto come Acqua e Sapone sono certe cose Acqua e Sapone e Tigotà che mi piace veramente tanto carinissime e molto sfiziose anche questi come negozi sì poi quinta domanda come ti comporti se una persona ti ha affeso? beh ovviamente io rispondo a tono non sto zitta se una persona mi offende ti dico scusami ripeti cosa hai detto? no perché comunque finché si parla si discute ok però andare a finire ad offendere una persona che non mi pare il caso no quindi ovviamente ribatto e di io non offendo però se l'altra persona a me mi offende mi dico guarda ti sei reso conto ti sei reso conto che mi sta offendendo e dopo dipende dopo come va avanti la storia insomma però ah beh all'inizio ci rimarrò male sicuramente perché passo non te l'aspetti passo pure anche da quella determinata persona però ovviamente mi difendo patatratta cioè proprio quindi io rispondo a tono insomma sesta domanda se vede appannata? no posso mi vedo appannata un attimo allora sesta domanda all'ultimo momento alcune persone si fermano a cena da te sei contenta però cosa ti manda in ansia? allora se io all'ultimo momento alcune persone che si fanno a fermare a cena da me ovviamente mi hanno dell'ansia del fatto di cucinare perché cucino io cose essenziali cioè le cose più semplici tipo ecco la pasta una spinacina le polpette il purè cucinare una bistecca la minestra insomma tutte queste cose qui semplicissime il booster per dir no ovviamente se uno mi chiede di fare la parmigiana non ha la sofà per dirvi le lasagne nemmeno che anche dopo vorrei cominciare a imparare a farle a me perché a cucinare non mi piace anche se ho notato che quando mi viene una cosa in cucina sono tutta contenta che bello mi è venuta è buona mi hanno detto no mi hanno fatto i complimenti che è buono eccetera però a me a cucinare non mi piace quindi mi mette ansia a quello perché dovrei cucinare e quindi non so che casino potrei combinare con l'ansia e tutto settima domanda sei più una persona che parla che osserva che ascolta ascolto ascolto molto poco però parlo tanto parlo tanto soprattutto quando mi devo far spiegare bene che oppure che l'altra persona non mi capisce che poi ma poi se mi ha capito fin dall'inizio però io per farmi cercare di capire meglio io spiego spiego parlo parlo vado a finire che rompo le scatole però osservo molto quindi io parlo osservo molto ascoltare si ascolto ma non tanto che è sbagliato che bisogna imparare anche a ascoltare cioè non è che non ascolto per niente ascolto però un po' di meno e parlo parlo tanto e ripeto su questo fatto qui su questo lato qui soprattutto se c'è una discussione in corso eccetera eccetera poi se io mi ti parlo qualcuno mi interrompe mi dai nervi perché poi dopo mi scordo perché questo dopo questa mi dice un'altra roba mi fa perdere il filo del discorso e poi anche per rispetto se io parlo un attimo taci in attimo dopo quando ho finito il discorso di te per dire però io osservo molto sono molto attenta guardo molto le persone anche quando parlano tra di loro osservo molto comunque sono molto attenta su queste cose ottava domanda qual è il tuo cavallo di battaglia in cucina? nessuno non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho ah poi prima a parte vabbè fai subito le passe tipo rauvo su quelle carote su normale la carabonara matriciana questi sono tutti vabbè normale meno quello e ritornando quello della domanda di prima però il cavallo di battaglia in cucina non ce l'ho posso avere le polpette l'unica cosa che mi madre trova veramente mi riesce molto molto bene faremo le polpette dai su noi niente proprio zero no una domanda quali sono le note profumate che preferisci? a me dei profumi mi piace tanto soprattutto quello dei fiori mi piace molto l'odore della rosa mi piace molto la viola cioè ho tutti questi profumini un po' così un po' tutti e insomma cioè nel senso comunque la maggior parte la lavanda mi piace tanto pure la lavanda buonissima la lavanda poi mi pare che ce n'era un'altra no mi pare che la lavanda è bassa mi pare sì comunque quello che mi piace più è la lavanda la rosa molto molto e e la viola pure molto però la lavanda è buonissima ma ce n'era un'altra che porca miseria non mi ricordo comunque ce n'era un'altra comunque gli amici e poi dietro ti pugnalano alle spalle e ti vanno a sparlare con altre persone poi non tolloro quelle persone che ci hanno sempre da dire qualcosa su di te o ci hanno da criticarti insomma se cose qui c'è nel senso fatta una vita tua mica per chi so contenta finché parlano o male di me o bene di me basta che se ne parli no come si dice quindi vuol dire che mi danno importanza e quindi questo quindi non tolloro le persone ecco ripeto che davanti ti fanno una faccia dietro il mantra oppure le persone quelle che ti criticano oppure anche le persone quelle che ti vanno a metti in mezzo in certe discussioni in cui ti proprio non c'entri niente queste persone qua insomma e più non tolloro le persone ovviamente bugiarde che non ce la fanno a dire una verità anche la faccia che non sono sinceri non ho sopporto e false insomma queste persone qua qui c'è scritto tag a tre persone e il mio come sempre tag a tutti voi io spero che questo tag delle dieci domande per te che possono bastare vi sia piaciuto io risaluto la swamp ciao tesoro un bacio grande mi raccomando passate nel canale di chiacchiere sul divano che ha ideato lei o lui non so io non conosco non ho visto credo che dovrebbe essere una femmina e andate a vedere il suo canale se volete iscrivervi io comunque lo lascerò nel titolo di questo video oltre al titolo del tag metterò anche chi l'ha ideato ovviamente che chiacchiere sul divano che corno l'avete letto e sotto nei commenti come sempre vi lascerò le domande di questo tag se lo farete sono contenta se lo farete questo tag niente vi saluto vi mando un grosso bacio sotto i video se volete commentatemi e mi fate sapere cosa ne pensate le risposte che ho dato io se alcuni di voi hanno le stesse mie risposte insomma le stesse idee niente io vi lascio vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao